Allora, c'è il rischio nel momento in cui il sistema dell'accoglienza diventa così importante anche politicamente, se vuoi anche da un punto di vista della propaganda, diciamo così, visto che adesso non c'è più neanche differenza tra testa e sinistra, apparentemente che si infili qualcuno a farci guadagno, ne abbiamo parlato, insomma ci sono stati vecchi i casi quando si diceva vale più un migrante, come era per citare il passato glorioso di questa città, diciamo così, tra virgolette, è qualcuno che faccia affari con il sistema dell'accoglienza? Ma sì, assolutamente sì, ogni volta che noi ci poniamo in una situazione anche d'emergenza straordinaria, quindi in qualche modo si focalizza il risultato con l'urgenza e quindi si apano e si abbassano un po' anche quelle che sono le difese normali, normalmente noi le chiamiamo in senso dispregiativo burocrazia, no? Ma la burocrazia è anche, in un certo senso, in qualche caso, quando non è quella cattiva burocrazia, è il modo per tentare di limitare questi aspetti qua. È ovvio che nel momento in cui c'è una situazione emergenziale straordinaria, quindi comunque flussi di denaro, perché i flussi di denaro ci sono, comunque c'è la necessità del risultato, cioè queste 67 mila persone come numero sono più o meno i migranti che noi abbiamo accolto come Paese in un anno sono arrivati, l'anno scorso sono arrivati nell'arco di un mese, quindi è qua la straordinarietà della situazione. È per questo che l'accoglienza deve avere, come dire, un aspetto di generosità, ma anche una forma di controllo. E noi abbiamo scelto di investire insieme al cosiddetto terzo settore perché noi confidiamo che questo controllo possa essere fatto proprio da chi questa attività la svolge quotidianamente. E quindi istituzioni, terzo settore, associazioni, credo che dà il meglio del Paese. Poi certo, l'importante è che quando ci sarà, e ci sarà, perché in questi numeri c'è sempre chi si infiltra, l'importante è che la condanna sia un'anime e che non diventi un metodo o un modo per andare a colpire una parte piuttosto che un'altra. Questo è un tema molto delicato nel nostro Paese. Alcune volte, come dire, in momenti di infiltrazione vengono usati anche un po' strumentalmente. Invece dobbiamo dire, noi facciamo un percorso, facciamolo il più pulito possibile, poi se qualcuno ci prova e magari ci riesce anche, beh, allora insieme cerchiamo di condannare.